Il sistema sanzionatorio dei reati deve sempre più propendere verso la riparazione e sempre meno verso la detenzione in carcere, dove dovrebbero andare soltanto i detenuti abituali che pur avendo avuto più opportunità persistono nel commettere fatti illeciti. E' quanto sostiene il garante dei detenuti, ma purtroppo sono tanti quelli che una volta ammessi alla misura alternativa della detenzione attraverso l'affidamento in prova ai servizi sociali, tornano sulla cattiva strada, costringendo le autorità a ritornare sui propri piassi e richiuderli in prigione. E' successo anche a Corigliano Rossano, dove i carabinieri hanno arrestato un noto pregiudicato che avrebbe dovuto scontare alcuni mesi di carcere per un cumulo di vecchie condanne, ma che invece aveva ottenuto proprio una pena alternativa. I militari dell'arma hanno accertato come l'uomo fosse solito frequentare luoghi di ritrovo non compatibili con la sua situazione e anche altri pregiudicati. Per questo e altri motivi è stato immediatamente arrestato e associato al carcere di Gastrovillari. E sempre a Corigliano Rossano i carabinieri hanno notificato a dieci persone legate da vincoli familiari ed amicizia l'ammonimento del questore per atti vessatori nei confronti di una donna, che avrebbe avuto origine da un regolamento di conti sfociato in un atto di violenza nel 2021 e che l'avrebbero costretta a cambiare le sue abitudini di vita.